Barzellette freddure pessime, giorno 27 di dicembre. Tre donne in paradiso davanti a San Pietro. San Pietro gli chiede Alzi la mano chi ha tradito il marito? E San Pietro vede che alzano la mano soltanto due delle tre donne. A questo punto San Pietro esclama Tutte e tre in purgatorio, anche la sorda. Daniele!